Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Oggi vedremo come creare un web crawler, quindi uno strumento per fare la scansione e ottenere dati da una pagina web. In particolar modo utilizzeremo questo framework chiamato Scrapi e per installarlo ci serve essere sicuri di aver installato questo gestore di pacchetti PIP. Quindi facciamo un attimo un passo indietro e andiamo sulla nostra console a parlare di questo gestore di pacchetti che dovrebbe essere, se avete Python dalla versione 3 in avanti, quindi in questo caso se avete fatto il corso da 3.9, è installato di default. In caso ci siano versioni precedenti vi consiglio di aggiornarlo a versioni maggior di 3 oppure scaricarlo direttamente da questo link. Apriamo ora un terminale per permetterci di verificare se all'interno del vostro sistema, questo PIP, in particolare PIP3, è della giusta versione o se esiste. Vi dovrebbe comparire una linea di questo tipo con il numero della versione attuale di PIP all'interno del vostro sistema. Che cos'è dunque un web scrape o il web scraping? È una tecnica informatica per estrarre dei dati da un sito web attraverso dei programmi software. Di solito questi programmi simulano la navigazione umana, quindi attraverso il protocollo HTTP o utilizzando un browser. Alcune librerie o framework molto conosciute sono Selenium, Beautiful Soup, che purtroppo però, pur essendo user friendly, non sono abbastanza efficienti. Quindi quando vi ritroverete a gestire programmi o ricerche di dati di grandi dimensioni potrebbero crearvi problemi, potreste rendervi conto di quanto sono limitati. Quindi noi decideremo di usare Scrapy, che è 20 volte più veloce degli altri, è ideale per lo sviluppo di web crawler e web scraping complessi e consuma meno RAM e meno CPU, soprattutto. Quindi è uno strumento piuttosto più efficiente. Una volta deciso di utilizzare Scrapy, torneremo sulla nostra pagina ufficiale, supponendo che questo sia già stato fatto, perlomeno dovreste già averlo, o nel caso lanciate questo comando e lo installate. Una volta che è tutto installato e aggiornato, andiamo sulla pagina della documentazione, torno indietro, cliccate qui su Documentation. E andate a vedere che ci sono tutta una serie di risorse. In particolar modo andremo a vedere questo Installation Guide. Si tratta dunque di lanciare questo comando per fare pip3 install Scrapy. Ci sono delle particolarità a seconda del sistema operativo, suggerimenti che vengono dati a seconda dell'ambiente in cui vi trovate. In particolar modo però questo comando, pip install Scrapy, nel nostro caso sarà pip3 install Scrapy, dovrebbe essere valido per tutti. Ovviamente io lo lancio per verifica, ma è già installato, quindi i requisiti risulteranno soddisfatti. Voi vedrete che scaricherà dei file e dopo li installerà. Dovrebbe essere piuttosto rapido. Una volta completato il processo di installazione di Scrapy, torneremo al nostro tutorial per vedere come si utilizza questo strumento. Numero uno, creeremo un nuovo progetto, poi scriveremo uno spider e poi così via con altre cose. Cominciamo a creare il nostro progetto. Il nostro progetto si creerà attraverso questa stringa, quindi la copiamo. Dove ci troviamo? Ci troviamo all'interno del nostro workspace, dove ci sono tutte le altre cartelle di Python, tutti gli altri documenti di Python che stiamo utilizzando. E all'interno del nostro workspace scriviamo Scrapy Start Project Tutorial. Quindi inizierà un nuovo progetto chiamato Tutorial. Quello che sta facendo adesso è sta creando una cartella e all'interno di questa cartella sta mettendo le cose che sono necessarie. Come ci dice qua, possiamo iniziare usando cd, quindi spostandoci nella cartella tutorial e poi possiamo generare uno spider di esempio. Quindi seguiamo le istruzioni, cd tutorial, ci troviamo qui e poi possiamo semplicemente scrivere Scrapy Gen Spider Example Example.com. In qualche secondo molto semplicemente genererà un file, possiamo anche fare un ls del tutorial dove ci troviamo. Vedete che c'è questa ulteriore cartella tutorial, facciamo cd per andare nella cartella tutorial. E vedete che ci sono tutti questi documenti di cui parla anche all'interno della documentazione. I più importanti sono naturalmente gli spiders perché sono quelli che faranno materialmente il lavoro di scansione. Qui ci suggerisce di creare un quotes-spider.pi ed è quello che faremo. Copiamo questo nome file. Andiamo all'interno del nostro tutorial. E all'interno dei nostri spider aggiungiamo un file qua e lo chiamiamo in questo modo. Quindi abbiamo creato il nostro file quote.spider.pi che dovrebbe risultare all'interno degli spider. Quindi facciamo cd, spider, facciamo ls e vediamo sia il nostro file d'esempio che abbiamo creato prima sia il nostro quote-spider.pi. Ora torniamo al nostro tutorial dove ci suggerisce di prendere questa porzione di codice che andremo ad escrivere in un attimo. Nel frattempo selezionatela, fate un bel ctrl copy o tasto destro copy e poi andiamo ad incollarla in Visual Studio Code. Qui vi aggiungo una versione già commentata. Chiudiamo qua per avere più spazio e andiamo ad analizzare questo file e il suo contenuto. Chiaramente importiamo Scrappy. Poi creiamo una classe. La chiamiamo in questo momento quote-spider. E all'interno della classe mettiamo questo name che all'interno del vostro progetto deve essere univoco. Quando avremo terminato per lanciare il crawl, per lanciare lo spider, quindi il processo, citeremo quote alla fine del comando. Quindi è molto importante ed è univoco. Poi dobbiamo definire questo metodo per iniziare le richieste. Questi sono gli URL dove comincia il nostro processo. In questo caso ci sono due URL di esempio. In particolare andiamo a vederne uno, giusto per avere un'idea di che cosa andiamo a fare lo scraping. È un sito che è stato creato apposta per fare lo scrape, to scrape. Ed ha questa forma. Ci sono ovviamente due pagine. Se mettete due, comparirà una seconda pagina. Quindi noi passeremo attraverso tutta questa pagina e ne salveremo una copia in locale. Passeremo ovviamente attraverso la una e attraverso la due. Quello che dice qui, dice per tutti gli URL che ci sono all'interno di URLS, quindi per questi due, genereremo una richiesta e la renderemo disponibile. Per quanto riguarda yield, è un comando simile a return, ma a differenza di return che invia un valore specificato al chiamante, quindi al caller, yield può produrre una sequenza di valori. Quando lo utilizzeremo? Utilizzeremo yield quando vogliamo iterare una sequenza ma non vogliamo memorizzarla. In questo caso ci fa comodo utilizzare yield al posto di return. Poi tutti questi dati andranno a passare all'interno di questo parse, di questo altro metodo e creeremo con questi dati presi da queste intere pagine web, dei file. Questi file avranno delle caratteristiche che appunto definiamo all'interno del parse. In particolar modo, page uguale response.url.split vuol dire che andremo a prendere di questo URL a partire dal fondo la cosa che si trova dopo lo slash. In questo caso vedete il numero 1 e in questo caso il numero 2. Quindi page sarà uguale al numero 1 e al numero 2. Stiamo semplicemente estraendo un carattere dall'URL della pagina. Qui inseriamo questo numero all'interno del nome del file. Vedete che il file si chiamerà quote-page, quindi quote-1, quote-2.html. Poi attraverso with open, parentesi, filename, wb, creiamo un file che ha questo file mode write binary e infine scriveremo il file inserendo tutto il contenuto di body. Per concludere, dopo aver scritto questo file, il sistema attraverso self-log genererà un messaggio per confermare che il file è stato effettivamente scritto. Si tratta di un'operazione relativamente semplice che ci permette di salvare dei siti in locale e è semplice apposta perché ci permette di iniziare a ragionare e a lavorare con Scrappy. A questo punto mi ritrovo all'interno di questo progetto e all'interno di questo progetto io voglio usare Scrappy. Che cosa voglio che Scrappy faccia? Voglio che faccia il crawl e voglio che faccia il crawl usando appunto il documento quote. Dopo aver scritto questo nella riga di comando Scrappy crawl quote premeremo invio sta eseguendo i processi per estrarre i dati dovremmo a questo punto ritrovarci qui all'interno i due file quote trattino 1 e quote trattino 2 apriamo semplicemente la carterra dove ci troviamo così da avere un'idea di tutto quello che abbiamo creato abbiamo quote 1, quote 2 avremo a questo punto un file html che possiamo aprire anche col browser che consiste esattamente dall'html preso da qua è diverso perché ovviamente il locale non abbiamo gli stessi collegamenti con i fogli di stile che invece ha il quote to scrape andiamo a dare una brevissima occhiata ai risultati stampati qua come vedete qui ci ha dato la conferma di avere salvato il file come previsto dall'ultima riga del nostro codice e poi è andato avanti estraendo questo documento questa è una prima applicazione delle mille possibili che si possono fare utilizzando il web scraping vi invito a giocarci un po' a cambiare parti di questo programma per cercare di capire come funziona effettivamente in modo più intuitivo possibile e vi ringraziandovi per l'attenzione vi invito al prossimo video a presto ciao